Questa sera parliamo di fantasmi e di neutrini con Lucia Votano. Lucia Votano, due parole come consuetudine per presentarvi il nostro ospite. Calabrese di nascita, si laurea in fisica all'Università di Roma alla Sapienza. Comincia la sua attività di ricerca con l'Enea, l'ente nazionale per l'energia atomica e poi successivamente, dove ha fatto tutta la sua carriera, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare precisamente nei laboratori nazionali di Frascati, dove è stato accurato il servizio di informazione scientifica e ha avuto l'incarico di dirigere la divisione di ricerca del laboratorio. È un fisico sperimentale come tale, ha partecipato a importantissimi esperimenti nei laboratori più importanti del mondo quali il CERN, il DESI, il Frascati ovviamente, ed è stata direttore dei laboratori nazionali di Gran Sasso dal 2009 al 2012. Diciamo così, lei è partita come ricerca nelle onde, nella fisica delle particelle elementari, fisica delle arti e energie, quella che una volta si chiamava fisica con gli acceleratori ma che oggi comincia a non essere più vero, come ci racconterà forse anche lei perché la fisica delle particelle elementari ormai sta facendo una transizione anche verso la cosmologia. Lei infatti da molti anni si occupa di questo settore, lavora in questo settore che si chiama Astro Particle Physics, fisica astroparticellare che è proprio, se vogliamo, il trait d'union tra la fisica dell'infinitamente piccolo e la fisica dello spazio. Ha partecipato all'esperimento LVD, che studiava i collassi stellari galattici, ROG per la ricerca di onde gravitazionali e opera per l'oscillazione di neutrini. È stato membro di importantissimi comitati internazionali a ricerca scientifica e ha ricevuto numerosi premi in orificenze, tra le quali quella di commendatore della Repubblica che si è stata insegnita dal Presidente Napoletano. Bene, io credo che sia tutto, vi lascio nelle mani sue con i fantasmi e con i neutrini. Buona serata. Buonasera a tutti, vi ringrazio per stare alla lista. I neutrini, cosa cambia? Comincio parlando di neutrini. Cosa cambia nei neutrini? Vi racconto però in qualche maniera il concetto di energia. Non solo perché il mio titolo parla di stranamente di fantasmi che si guadagnano dell'alfabeto greco, ma in particolare quella che la storia delle conoscenze, delle scoperte, delle scientifiche, chissà perché, comincia proprio con un neutrino. Energia è la stessa velocità. I neutrini, cosa cambia? Come in un giallo, io mi adeggo, è il bilancio degli nervi. Il concetto di energia. Allora vedete in questa immagine che ho preso dal web, c'è una bilancia e poi ci sono delle lettere che in particolare, quella che giustamente si dovrebbe chiamare lì, ma i fisici coincidessero con il carattere del mio cognome, ma non è una V, ma è, bensì, è una lettera greca dell'alfabeto greco, in particolare quella che giustamente si dovrebbe chiamare nì, ma i fisici chissà perché chiamano nu. Ebbene, questo simbolo è proprio il simbolo del neutrino, perché ogni particella elementare c'è il suo simbolo, una sua lettera che lo rappresenta. Per il neutrino è questa lettera dell'alfabeto greco che i fisici appunto chiamano nu. Allora, primo indizio, vedete che ci sono tanti neutrini che sono in fila per farsi pesare. Primo indizio. Bene, un altro indizio è che se mi si chiede che cosa sono i neutrini, io comincio col dire che sono degli invisibili fantasmi che ci circondano, ci attraversano in gran numero e si aggirano per tutto l'universo. Allora, in questo mio discorso di stasera cercherò di spiegare che cosa è neutrini, forse la cosa più semplice da spiegare è perché da Nobel, ma questa sarà, diciamo, la prima cosa che vi dirò. Però perché io parlo di fantasmi invisibili che ci circondano, ci attraversano, eccetera? Allora, immaginate di stare distesi su una bella spiaggia ad abbronzarvi al sole e naturalmente, anzi, cercate proprio di abbronzarvi, però, diciamo, il medico mi ha detto state attenti perché se non volete diventare come quella signora che si è cotta da una parte e dall'altra no perché evidentemente non si era protetta abbastanza, immaginate di, normalmente, quello che si fa ci si mette una crema contro i raggi, soprattutto ultravioletti. Benissimo, però, mentre state lì ad abbronzarvi, quindi a prendere la radiazione elettromagnetica visibile non che arriva dal sole, non sospettate che ogni centimetro quadrato della vostra pelle è attraversato da 60 miliardi al secondo, per ogni secondo, di neutrini. Ecco quindi che la frase invisibili fantasmi che ci attraversano in gran numero è diventata in qualche maniera una realtà. Allora, prima di spiegare che cos'è il neutrino e perché lo chiamiamo un fantasma fatemi dire perché si è guadagnato il Nobel. Questo è più semplice da spiegare, scusate, perché nel 2015, come vedete, il Nobel per la fisica è stato assegnato a Takaki Kajita e Arthur MacDonald, un giapponese e un canadese che, come dice questa frase, è copiata dalle motivazioni proprie del Nobel perché per la scoperta delle oscillazioni di neutrino che hanno mostrato che i neutrini hanno una massa. Quindi vedete il mio primo indizio dei neutrini che si pesano aveva un certo significato perché questi due signori hanno scoperto, poi vedremo meglio che cosa vuol dire, che hanno scoperto che i neutrini hanno una massa. Adesso voi li vedete lì sulla bilancia, l'avete visto sulla bilancia, la bilancia segnava abbastanza. In realtà il neutrino è una delle particelle di massa più piccola che c'è, quindi, anzi, è una massa estremamente piccola. Però la scoperta è stata proprio che, mentre le teorie dicevano che non dovesse avere massa, in effetti i neutrini ce l'hanno. Adesso, dove hanno lavorato questi signori? Il canadese ovviamente ha lavorato in Canada, in un laboratorio sotterraneo. Vedete, questa è una mappa dei laboratori sotterranei nel mondo. Questo ha lavorato in Canada, Arthur McDonald, mentre il giapponese ovviamente, no, non ovviamente, ma insomma ha lavorato in un laboratorio giapponese che si chiama Capioca, molto famoso tra i fisici. Giusto, insieme a tutti gli altri laboratori sparsi per il mondo, ho messo in evidenza in particolare il laboratorio del Gran Sasso, che è la nostra gloria nazionale, perché ancora oggi, a più di 30 anni dalla sua concezione, dall'inizio della sua costruzione, è ancora il più grande e il più importante dei laboratori di questo tipo al mondo. Adesso cercherò invece di spiegarvi che cos'è il neutrino e cosa sono le oscillazioni dei neutrini. Vedete un cielo stellato, naturalmente mi sono scelta la costellazione mia, che è quella dello scorpione, da segnalare. E perché? Perché credo che per rispondere alla domanda di che cosa siano i neutrini, in qualche maniera bisogna rifarsi a domande antiche come l'uomo. Perché io penso che anche gli uomini più antichi, appena hanno preso consapevolezza di sé, magari guardando il cielo stellato, si sono chiesti, ma cosa c'è in cielo? Di che cosa è fatto quello che adesso chiamiamo universo? Ha avuto un'origine? È nato in un certo istante? Oppure è immobile, è sempre stato lì, viene infinitamente, vive in un infinito presente? Oppure invece ha un'evoluzione, non è qualcosa di immobile, ma ha un'evoluzione, quindi quale sarà il suo destino futuro? Ecco, queste sono domande antiche come il mondo. Però queste domande sono le stesse che in questo momento e sempre si sono posti anche i fisici. E vi farò vedere che nello spiegare che cos'è il neutrino, in sostanza, sto rispondendo a queste domande. L'altra domanda fondamentale che si sono fatti sempre gli uomini è di che cosa è fatto il mondo. Vedete, questa è una statua famosa di Rodin, il pensatore. Chissà, dice che questa statua rappresenta Dante davanti alle soglie dell'inferno. Secondo me è invece il simbolo del mestiere del fisico, perché che cosa fa il fisico? Cerca di rispondere proprio alla domanda di che cosa ha fatto il mondo. E soprattutto chi fa ricerca fondamentale, cioè pilotata solo dalla curiosità di conoscere la realtà. Quindi per me questo è il simbolo del mestiere del fisico. Ebbene, se volete, facendo la domanda in altro modo, se io guardo, vedete qui c'è il sole, il cielo stellato, un grande animale, un elefante, un microbo, un virus, adesso non mi ricordo. E la domanda è che cosa hanno in comune? Vedete, queste domande se le sono poste anche i filosofi antichi, a partire da centinaia di anni prima di Cristo. Quindi effettivamente sono domande molto antiche. Se volete, possiamo fare questa domanda in senso moderno in una maniera un po' diversa. Se io ho a disposizione un microscopio di cui posso variare la risoluzione in maniera infinita, cioè sempre di più, man mano che io voglio, e lo punto su un oggetto qualunque, che cosa vedo qui? Oppure anche se potessi sul sole o su una stella. Cosa vedrei? Bene, supponiamo che guardi per esempio la mia mano, vedrò il tessuto della pelle, poi vedrò le molecole che costituiscono la mia pelle, dopo le molecole ci sono gli atomi, gli atomi a loro volta, i nuclei e così via. Ma la domanda che anche i filosofi presocratici si ponevano, la domanda è la materia è continua o discreta? Che cosa vuol dire? Cioè io posso variare continuamente la risoluzione di questo microscopio e continuare a vedere pezzi sempre più piccoli, oppure a un certo punto arrivo a quelli che potrei chiamare i mattoni fondamentali della materia. Cioè la materia appunto è continua o discreta. Bene, i filosofi naturalmente avevano le loro idee basate sulla teoria. C'era chi sosteneva che la materia fosse continua, quindi che io potessi dividerla in pezzi sempre più piccoli, sempre più piccoli, in maniera infinita, eppure invece c'era Democrito, che è uno dei presocratici, che disse no, la materia è discreta. A un certo punto io incontro dei mattoni fondamentali, che lui chiamò atomi, proprio perché in greco atomo vuol dire indivisibile, e tutto ciò che ci circonda è fatto e costituito a partire da questi atomi. Bene, ma loro erano filosofi, ancorché cercassero di, diciamo, si cominciava a vedere l'alba della scienza, nel senso della capacità di astrazione dalla realtà, di costruire una teoria, ma in realtà le risposte a queste domande dobbiamo aspettare il 1600 per cominciare a darle in modo scientifico. Perché il 1600? Perché nasce un grande uomo, che ovviamente riconoscete Galileo Galilei. Ebbene, c'è una data che secondo me andrebbe insegnata nelle scuole allo stesso modo come la scoperta dell'America, la data della scoperta dell'America, che è il 1610, perché in quell'anno Galileo pubblica il Sidereus Nuncius. Galileo era stato appunto a Padova, aveva insegnato a Padova, qui a Padova aveva conosciuto, non l'ha inventato lui, uno strumento che era il cannocchiale, che lui cominciò, come diremmo oggi, a ingegnerizzare in un certo senso. Bene, poi tornato a Pisa, più o meno poco prima della pubblicazione di questo libro, del Sidereus Nuncius, lui fa una cosa rivoluzionaria. Invece che puntare il cannocchiale per guardare le belle ragazze della casa di fronte, come facevano alcuni, ebbe la bell'idea di puntare questo cannocchiale al cielo. E che cosa ha visto di così rivoluzionario, che ha cambiato completamente il pensiero dell'uomo, in maniera estremamente profonda, beh, lui si accorge di una cosa fondamentale, che Giove ha i pianeti, che la Luna è fatta, non è perfetta, come nel sistema tolemaico-aristotelico ci diceva, che la Terra è al centro dell'universo, è l'unica cosa che di materia caduca, di materia imperfetta, mentre tutto il resto sta in queste sfere celesti, di materia, l'etereo è perfetto, è immortale. Bene, no, lui invece si accorge che la Luna, i pianeti, eccetera, sono fatti della stessa materia di cui è fatta la Terra. Quindi in un solo istante, come io dico, la Terra perde la sua centralità, non solo dal punto di vista geografico, perché non è il centro intorno a cui ruota il Sole, ma non è solo quello, e perde la sua centralità dal punto di vista del pensiero, del concetto, della filosofia, della religione, di tutto. Adesso addirittura sappiamo che la Terra non è che uno dei pianeti, di una stella che sta alla periferia di una galassia, che questa galassia non è una che dei miliardi di galassie che ci sono in tutto l'universo a noi accessibili. Quindi, altro che centro di tutto, siamo, diciamo, alla periferia, anche se in realtà non è corretto dire, perché nell'universo non c'è un centro. Perché quando si dice che l'universo si espande, non è che l'universo si espande nel vuoto, è lo spazio che si espande. Comunque, questo lo vedremo anche tra un po'. Quindi questa è una data fondamentale. E Galileo Galilei fonda, in quel momento, diciamo, la cosa per cui poi lui è riuscito a convincere tutti di questo e ha così profondamente cambiato il pensiero umano, non è perché lui era più bravo a convincere gli altri, ma perché lui ha portato le prove sperimentali. Se volete, tutto sta in questo strumento, il fatto che lui abbia usato uno strumento. Quindi lui ha fondato il metodo scientifico sperimentale. Le verità scientifiche sono quelle che vengono provate sperimentalmente e chiunque ripeta l'esperimento deve poter trovare gli stessi risultati. E la scoperta, il senso di quello di un fenomeno che uno sta osservando, si esprime in termini matematici. Questa è la scienza moderna. Con poche varianti vi assicuro che ancora oggi noi usiamo il metodo Galileiano. Bene, quindi che cosa ci dice la scienza moderna? Qui vado veloce perché sapete tutti. Quello che l'atomo, si pensava, l'atomo di Democrito, in realtà non è quello che noi ancora chiamiamo atomo, in realtà è tutt'altro che indivisibile perché è fatto da un nucleo, dagli elettroni, il nucleo è fatto di protoni e di neutroni, i protoni e i neutroni sono fatti di quark e così via. Poi ci sono gli elettroni. Allora, vedete che quark ed elettroni fanno parte di questi mattoni fondamentali, in particolare della materia stabile. Quindi, se volete, correttamente dovremmo chiamare atomi i quark o l'elettrone. Perché sono questi gli elementi indivisibili, nel senso appunto di atomo, cioè di indivisibile, che costituiscono, a partire dai quali, l'enorme e meravigliosa varietà di fenomeni che osserviamo sulla Terra o nell'universo, si può costruire. Ebbene, come Democrito diceva che gli atomi non sono fermi, immobili, ma lui diceva si muovono in continuazione, sono in un eterno moto. Ebbene, questo eterno moto democriteo è strano perché riecheggia molto quello che noi adesso sappiamo su queste particelle, perché questi mattoni fondamentali non sono statici, si interagiscono fra di loro. E adesso sappiamo che interagiscono attraverso quattro forze fondamentali. Le forze fondamentali della natura che conosciamo sono quattro. Naturalmente quella meglio conosciuta è la forza gravitazionale, quella di cui poi sentirete anche la meraviglia della scoperta delle onde gravitazionali. Poi c'è la forza elettromagnetica, che ovviamente è anche ben nota. Ma c'è un'altra forza molto importante, che è quella che tiene i quark dentro il protone e il neutrone, e se volete anche i protoni dentro il nucleo, che è la cosiddetta forza forte. E poi c'è un'altra forza, che è la forza debole, che è responsabile per esempio dei decadimenti radioattivi, ma soprattutto è quella per la quale, in base alla quale, il sole riesce a mandarci energia e a scaldarci e ha consentito la vita sulla Terra. Bene, tutto quello che adesso i fisici hanno imparato proprio attraverso gli esperimenti, attraverso il metodo gallileiano, adesso è racchiuso in quello che chiamiamo il modello standard delle particelle e delle interazioni fondamentali. Allora vedete che abbiamo dodici, chiamiamoli atomi, cioè particelle elementari. Elementari non nel senso che siano semplici o banali, ma elementari perché sono indivisibili. Sono i mattoni fondamentali. Abbiamo sei quark, sei elettoni, tra cui vedete c'è l'elettrone, un elettrone più pesante che si chiama mone, uno ancora più pesante che si chiama tau, e poi rivedete i simboli che stavano lì in fila a pesarsi sulla bilancia. Il neutrino E, il neutrino mu e il neutrino tau. Allora vedete che siamo arrivati, comincio a rispondere alla domanda che cosa sono i neutrini. I neutrini sono particelle elementari. Nel concetto moderno di interazione tra le particelle elementari, che interagiscono attraverso queste quattro forze fondamentali, quello che succede è che la forza non è altro che uno scambio di altre particelle. Quindi per la forza elettromagnetica le particelle si scambiano dei fotoni, per la forza forte si scambiano dei gluoni, per la forza debole si scambiano queste altre particelle, che sono il W e lo Z, che sono stati scoperti da rubbia. Vedete qui al centro un'altra particella col simbolo H, forse non si legge bene, ma questo è il bosone di X. Che c'entra il bosone di X? C'entra perché, vedete, nella matematica, fatemela dire così, nella simmetria, nella matematica, che descrive il mondo attraverso queste particelle elementari e le forze, in realtà non c'era bisogno che le particelle, alcune perlomeno, quelle che hanno massa, avessero massa. Quindi bisognava spiegare quale meccanismo aveva fatto sì che loro poi acquistassero massa, perché se non avessero massa non saremmo qui a discutere. Bene, negli anni Sessanta, tre persone, che sono Higgs, Englert e Braut, inventano teoricamente una teoria, un meccanismo attraverso il quale le particelle possono acquistare massa. Si chiama il meccanismo di Higgs. Sono passati decenni, alla fine, nel 2012, al CERN di Ginevra, è stata annunciata la scoperta del bosone di Higgs. Quindi, vedete, così come vedrete, per le onde gravitazionali, che la teoria era di cento anni fa, e ci sono voluti cent'anni, qui forse un po' di meno, però c'è sempre nella ricerca questo gioco tra teoria e esperimenti che devono mostrare la veridicità, la correttezza della teoria. Bene, quindi tutto, possiamo dire, che tutta la materia noi conosciuta qui sulla Terra e nell'universo, almeno per una sua parte, è fatta attraverso dei mattoni fondamentali che interagiscono attraverso queste forze, scambiandosi altre particelle. Tra questi mattoni fondamentali abbiamo i neutrini. Quindi, se qualcuno mi chiede che cosa sono i neutrini, sono autorizzata a questo punto a dire che i neutrini sono particelle elementari, fanno parte di questi mattoni fondamentali. E che cosa sappiamo dell'universo? Anche qui è straordinario i progressi che la cosmologia ha fatto negli ultimi decenni, guardate, veramente negli ultimi decenni. Sappiamo che tutto è nato, noi siamo qui. Queste sono le galassie, le stelle, i pianeti, tutto quello che noi vediamo, che siamo oggi qui, siamo qui. Quanto tempo è passato dall'inizio di tutto? quasi 14 miliardi di anni. E che cosa c'era prima? Dall'istante zero a 10 alla meno 43 secondi, è un numero piccolissimo perché dovete fare, scrivere 0 virgola seguito da 42 zeri, siamo in una singolarità in cui non ha senso neanche definire lo spazio e il tempo, in cui i fisici non sanno quali erano le leggi che potessero descrivere questa situazione. Bene, e in questi primissimi istanti, veramente frazioni di miliardesimi, di miliardesimi, di miliardesimi di secondo, le forze erano indistinguibili, le particelle erano indistinguibili. Improvvisamente intorno a 10 alla meno 35 secondi, vedete, sono numeri piccolissimi, sono veramente neanche un battito di ciglia. Improvvisamente è successo che da un punto adimensionale di enorme energia e densità, improvvisamente c'è quello che i fisici chiamano l'inflazione, cioè che vuol dire che improvvisamente lo spazio si espande fino a diventare tutto l'universo e aveva le dimensioni di melone, di un pallone, insomma di un oggetto molto piccolo, che però racchiudeva tutto, tutta l'energia e tutto quello che adesso ritroviamo in maniera infinita qui, dopo 14 miliardi di anni. Piano piano le forze si cominciano a separare, prima si separa la forza gravitazionale, poi si separano le altre forze fondamentali, cominciano ad esserci i primi quark e sempre in questi primissimi istanti succede una cosa strana. Durante quello che noi chiamiamo il Big Bang, praticamente materia ad antimateria si equivalevano, erano in pari misura. Ebbene, in questi primissimi istanti invece succede qualcosa che non è completamente simmetrico per materia ad antimateria, e che fa sì che materia e antimateria non si comportino in maniera esattamente uguale. Questo sbilancia l'una rispetto all'altra. Da allora, per quello che sappiamo, l'universo è fatto tutto solo di materia, di quella che chiamiamo materia, e non di antimateria. Bene, poi cominciano a, intorno a microsecondi si formano i primi protoni e neutroni, intorno a 10 alla meno 11 secondi si crea il campo di X. Praticamente lo spazio si riempie di questa specie di melassa che riesce a dare massa alle particelle. Vedete, qui, perché, diciamo, se volete è un po' strano che io da una parte parlo dell'infinitamente piccolo, di questi mattoni infinitesimi che costituiscono tutta la materia, dall'altra parlo dell'universo. Perché? Perché sono fatti della stessa cosa. E come posso studiarli? Posso studiarli sia attraverso degli acceleratori che sono in fondo quel microscopio di potenza enorme con cui io vado a guardare la realtà, oppure studiando fenomeni rari come quanto accade, per esempio, nei laboratori sotterranei. Improvvisamente c'è una cosa importante. Vedete, qui, questo è il limite, praticamente, in cui valgono, cominciano a valere le leggi della fisica che noi conosciamo adesso e quindi è lì dove io posso studiare usando gli acceleratori tipo l'LHC. Un'altra data molto importante è quella che è 380.000 anni dopo il Big Bang. Sapete che la genesi dice e la luce fu? Bene. Adesso gli scienziati sanno che la luce fu e è avvenuto 380.000 anni dopo il Big Bang. Perché è avvenuto in quell'istante? Perché più o meno quello è il periodo in cui si formano gli atomi. Allora, i fotoni che prima erano intrappolati in questo brodo primordiale che non riuscivano a uscire liberi, l'universo era opaco, improvvisamente l'universo diventa luminosa. Quindi questa è la prima luce che noi possiamo osservare con i nostri strumenti. Guardando le stelle noi guardiamo oggetti che, se sono vicini, diciamo, sono abbastanza alla loro posizione, adesso è abbastanza simile a quella, diciamo, di adesso. Io più lo... siccome la luce ha una velocità finita, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io più in là riesco a vedere, il mio strumento è talmente sensibile che riesco ad andare molto lontano, a galassie molto, molto lontane. Siccome la luce però ci ha impiegato un certo tempo per arrivare sino a me, vuol dire che io faccio anche un viaggio nel tempo. E quanto posso andare indietro nel tempo con i miei strumenti fino a vedere questa prima luce. Per andare più indietro ad osservare quello che è successo nel Big Bang, devo usare degli acceleratori o altre particelle che in qualche maniera sono nate e si sono liberate prima della luce. Le prime stelle, i primi addensamenti di polvere che ha formato le prime stelle, le prime galassie va da 500 mila a un milione di anni. E come dico, adesso siamo qui a 14 miliardi di anni. Quindi vedete che conoscenza dell'infinitamente piccolo e conoscenza dell'infinitamente grande si mescolano insieme. E mi potete chiedere, i neutrini? Quando è che la Genesi avrebbe dovuto dire e il neutrino fu invece della luce? Allora qui ho riassunto l'età dell'universo sono 13,8 miliardi di anni, la prima luce è 380 mila anni, le prime stelle dopo 500 milioni dal Big Bang. Bene, a un decimillesimo di secondo dal Big Bang i neutrini sono apparsi nell'universo. Trascorso un secondo, l'universo si era leggermente raffreddato in maniera tale che essi potessero, hanno potuto, diciamo, muoversi liberi nell'universo. Quindi, e il neutrino fu, avvenne praticamente intorno a un secondo dopo il Big Bang. E questi neutrini sono ancora lì, l'universo si è espanso, ma quei neutrini sono ancora lì e sono i più antichi neutrini che noi conosciamo, che purtroppo, ancora, nonostante siano numerosi, perché ogni centimetro cubo di tutto l'universo racchiude circa 300 di questi neutrini. Però purtroppo la loro energia è bassa e nonostante sembrino tanti in realtà non riusciamo a rivelarli e quindi ancora non siamo riusciti a rivelarli. Ma se un giorno ci riusciremo, praticamente noi è come se avessimo spostato il nostro canocchiale, il nostro punto, diciamo, osservazione dell'universo non a 380 mila anni dopo il Big Bang come si fa usando la luce ma a un secondo. Quindi ci racconterebbero di quello che è successo un secondo dopo il Big Bang. Adesso, perché sono così importanti questi neutrini? Che come vedremo poi ci sono così tanti esperimenti al mondo che si occupano della fisica dei neutrini poi così importanti da meritare il Nobel e non era il primo a parte la scoperta del neutrino ma 12 anni fa c'era stato un altro Nobel per la fisica dato sempre per i neutrini. Allora, cominciamo a vedere qualche caratteristica che hanno delle caratteristiche un po' particolari questi neutrini. Intanto, vediamo un attimo, la luce, la radiazione elettromagnetica che ci arriva dal Sole sappiamo che ci scalda. Perché ci scalda? Perché interagisce con il nostro corpo, vi deposita dell'energia e quindi ci scalda. I neutrini, invece, hanno una bassissima probabilità di interazione quindi sono in grado di attraversarci, come ho detto, senza interagire con il nostro corpo. In tutta la nostra vita ci sarà qualche decina, forse, di neutrini che in qualche maniera vengono intercettati dal nostro corpo. E quindi ci vogliono, diciamo, naturalmente non vuol dire che non interagiscono per nulla, è un discorso probabilistico, vuol dire che la probabilità è estremamente bassa, quasi come vincere il superenalotto. Bene, ecco allora svelato perché nel mio libro, io, che ho chiamato il fantasma dell'universo, è perché siamo autorizzati a chiamarli fantasmi dei neutrini. Ovviamente i fantasmi non esistono, ma è una analogia che serve un attimo per far capire questo particolare comportamento dei neutrini, questa scarsissima propensione ad essere intercettati dalla materia. Cioè, quindi, come i fantasmi, per passare da una stanza all'altra, ovviamente non devono aprire le porte o le finestre, ma passano indisturbati, così i neutrini passano indisturbati. Un'altra caratteristica che hanno questi neutrini, ecco, e qui veniamo poi anche, ci farà capire meglio perché i due, i nostri fisici, l'anno scorso hanno preso il premio Nobel, hanno un'altra caratteristica. Voi avete visto che i neutrini sono di tre tipi, il neutrino elettronico, di tre sapori, noi diciamo che hanno tre sapori, un po' come fossero tre cariche elettriche diverse. La carica elettrica sappiamo che convenzionalmente è positiva e negativa, quindi esistono due tipi di cariche elettriche. Per i neutrini la carica di sapore che è legata all'interazione debole ha tre possibilità, neutrino elettronico, neutrino muonico e neutrino tau. Bene, quello che è successo, che abbiamo capito, ed è perché anche, io parlavo di un giallo quando si parla dei neutrini, intorno agli anni 60 si cominciava, si sapeva che dal sole dovevano arrivare dei neutrini. Ebbene, ci fu qualcuno che si mise negli Stati Uniti a fare un primo esperimento per rivelare i neutrini provenienti dal sole e lì cominciò il giallo perché trovò che di questi neutrini ce ne erano ma considerabilmente molti di meno di quelli che ci si aspettava e lì iniziò il giallo perché due erano le ipotesi o quello che noi sapevamo del meccanismo delle reazioni nucleari che avvengono intorno al sole era talmente sbagliato che la nostra previsione era completamente sbagliata oppure ai neutrini era successo qualcosa di particolare che ancora non conoscevamo. In realtà non è che non la conoscessimo perché diciamo l'oscillazione dei neutrini cioè questa capacità dei neutrini di trasformarsi da un tipo all'altro perché qual è stata poi la soluzione del giallo? Il fatto che il sole emette solo neutrini elettronici e quindi il rivelatore che era stato costruito sulla terra era in grado solo di rivelare i neutrini elettronici ma se i neutrini nei dieci minuti che impiegano ad arrivare dal sole fino alla terra qualcuno di loro si era trasformato in un neutrino di un altro sapore il rivelatore non li vedeva quindi chiaramente ne misurava un numero inferiore bene questa capacità di trasformazione di metamorfosi del neutrino è quello che i fisici chiamano il fenomeno dell'oscillazione vedete che però già qualcuno l'aveva previsto nel 1957 il nostro grande Bruno Pontecorvo l'anno scorso i due fisici che hanno vinto il premio Nobel se fosse stato ancora vivo Bruno Pontecorvo in realtà il Nobel sarebbe dovuto andare a lui così come il Nobel per la scoperta del bosone di X non è andata ai 5.000 fisici che hanno coi due esperimenti ATLAS e CMS e al CERN hanno scoperto il bosone di X ma ai teorici quelli due superstiti dei tre che avevano inventato teorizzato il meccanismo di X e quindi l'esistenza del bosone di X allo stesso modo se lui non fosse morto probabilmente il Nobel sarebbe dovuto andare a Bruno Pontecorvo bene ecco perché allora oltre ad essere dei fantasmi hanno diciamo che i neutrini hanno un carattere camaleontico perché amano confondere i loro osservatori perché nascono diciamo al momento in cui vengono creati nell'interno del sole sono neutrini elettronici poi alcuni di loro arrivando sulla terra si sono trasformati per esempio in neutrini muonici adesso vedete che già abbiamo imparato parecchie cose sui neutrini sappiamo che il neutrino è una particella elementare nel senso che abbiamo detto è uno di questi mattoni fondamentali elettricamente neutra però ha diciamo tre sapori diversi che sono il neutrino elettronico il neutrino muonico il neutrino tau ho detto che forse non l'avevo detto ma i neutrini e la luce i fotoni sono le particelle più diffuse nell'universo quindi vedete anche l'importanza di studiarli perché diciamo sono veramente sono più miliardi di volte più numerosi di tutte le stelle che ci sono nell'universo quindi è un numero veramente enorme ebbene attraverso le oscillazioni e attraverso le oscillazioni che si è capito che i neutrini hanno una massa adesso qui se volete seguirmi un attimo ma non vi scoraggiate perché io vi ho parlato di questa oscillazione dei neutrini vi ho fatto vedere quel cartone animato in un certo senso in cui un neutrino elettronico cammina cammina dal sole sulla terra e man mano che cammina si trasforma in un neutrino di tipo mu in realtà per spiegare il fenomeno abbiamo bisogno della meccanica quantistica è un fenomeno tipico della meccanica quantistica questo dell'oscillazione dei neutrini se volete forse la cosa più simile nella meccanica classica parlando per esempio del mescolamento di solo due neutrini potrebbe essere un pendolo due pendoli accoppiati da una massa leggera però diciamo qual è adesso giusto per darvi un'idea sappiamo che in meccanica quantistica particelle e onda sono equivalenti per esempio per le onde elettromagnetiche noi parliamo indifferentemente anche di particelle fotoni fotoni o onde elettromagnetiche bene i tre neutrini il nu è il nu mu e il nu tau possiamo pensarli come una mescola di tre onde diverse che hanno una massa definita allo stesso modo questi nu 1 nu 2 e nu 3 che sono neutrini di massa definita sono una mescola di tre onde di sapore definito bene che cosa succede che il sapore il fatto che sia un neutrino elettronico buonico e tau viene come devo dire congelato fotografato deciso al momento della creazione del momento in cui nasce viene formato viene creato quel neutrino oppure quando lo rivelo questo è proprio un discorso chiaramente da fisica quantistica però mentre si propaga nello spazio e nel tempo il suo sapore non è definito allora che cosa succede che i tre neutrini che viaggiano nello spazio e nel tempo i tre neutrini di massa definita siccome hanno una massa leggermente diversa si muovono a velocità leggermente diversa quindi quella che era una mescola all'interno per esempio del neutrino elettronico dei tre no 1 no 2 no 3 in proporzione x y e z viaggiando nel tempo questa proporzione cambia e quindi magari quando arriva sulla terra quel neutrino elettronico si è trasformato nella mescola che corrisponde al neutrino mu ebbene proprio attraverso questo fenomeno quindi che abbiamo scoperto che i neutrini hanno una massa perché se non avessero massa questo fenomeno non potrebbe essere diciamo non poteva succedere e quindi le oscillazioni dei neutrini hanno dimostrato che i neutrini hanno una massa vedete è una cosa importante perché quel famoso modello standard delle particelle elementari e delle interazioni fondamentali con cui i fisici vi dicono abbiamo capito tutto sappiamo tutto sappiamo come è fatta la materia è fatta attraverso questi mattoni fondamentali queste sono le forze fondamentali benissimo però guarda caso il meccanismo di Higgs stesso che dà la massa alle altre particelle non prevede di dare massa ai neutrini allora abbiamo appena dato vedete com'è la scienza è strana la ricerca abbiamo appena dato il Nobel alla scoperta del bosone di Higgs al modello che era la ciliegina che mancava l'elemento mancante di tutto questo castello del modello standard delle particelle elementari e già scopriamo qualcosa il fatto che i neutrini abbiano massa non previsto dal modello standard che ci dice che bisogna ampliare questo modello standard non è l'unico elemento ma è uno degli elementi che come al solito ci dice che la ricerca non si può mai fermare non possiamo mai dire abbiamo capito tutto perché poi c'è qualcosa sempre viene fuori qualcosa che non si spiega per cui quel modello va ampliato cioè non vuol dire che non sia vero ma rimane vero in un ambito più ristretto abbiamo bisogno di aprire una finestra e guardare un po' più in là allora se esistono le oscillazioni dei neutrini allora i due che hanno preso il Nobel appunto dicevo sono il canadese Art McDonald che ha avuto diciamo il merito di scoprire le oscillazioni tra il neutrino e il neutrino mu e questo tipo di oscillazione è quello tipico proprio dei neutrini solari invece il canadese diciamo ha studiato le oscillazioni tra il neutrino mu e il neutrino tau e queste si possono fare attraverso diciamo le energie sono tali che si può studiare usando altri tipi di neutrini che sono i neutrini atmosferici oppure i neutrini prodotti da un fascio artificiale come quello per esempio che dal CERN di Ginevra è stato inviato verso il Gran Sasso allora però per capire bene qual è stato il contributo di questi due illustri fisici e perché abbiano meritato il Nobel forse conviene un attimo ripercorrere come si è arrivati a questa scoperta perché è molto istruttivo anche per capire come procede la scienza e secondo me il modo diciamo l'immagine più appropriata per descrivere i passi che sono stati creati che sono stati fatti per capire cosa sono i neutrini e in particolare le oscillazioni dei neutrini e l'immagine di un puzzle un puzzle però di cui quando chi ci ha venduto la scatola con le tessere si è scordato di darci la scatola non abbiamo il disegno di come deve diventare il puzzle ci hanno dato le tessere ma non sappiamo qual è la figura che deve essere rappresentata e quindi i fisici hanno dovuto mettere delle tessere una dietro l'altra una dietro l'altra finché proprio come in un puzzle si è chiarito il disegno vedete che non a caso qui mancano delle tessere perché il puzzle in realtà non è ancora finito e quindi ancora abbiamo da imparare bene allora abbiamo visto che Art MacDonald ha vinto il Nobel si è guadagnato il Nobel per le oscillazioni studiando i neutrini solari perché il sole vi ho detto emette miliardi decine di miliardi al secondo di neutrini che ci attraversano per ogni centimetro quadrato della nostra terra perché il sole è una stella la stella non è altro che come tutte le stelle non è altro che una centrale nucleare a fusione invece che a fissione le centrali nucleari che noi usiamo per l'energia sono quelle che scindono gli atomi pesanti di uranio per esempio in frammenti più leggeri la fusione fa il contrario nel sole ogni secondo centinaia di milioni di tonnellate di idrogeno si fondono quattro atomi di idrogeno si fondono a formare un atomo di elio e questo è quello che si chiama il processo nucleare di fusione se volete quella alla base della bomba H purtroppo non sappiamo farlo in maniera controllata se no avremmo risolto i problemi energetici sul nostro pianeta bene adesso che cosa succede questo è importante per capire anche questa fisica astro particellare che sta un po' tra particelle elementari e un po' tra studio dell'universo perché vedete in questa centrale nucleare che sta nel cuore del sole nel centro del sole la materia è densissima in queste catene di reazioni nucleari viene messa energia sotto forma anche di fotoni diciamo di luce però che cosa succede che siccome la materia è molto densa questi fotoni interagiscono scatterano rimangono intrappolati in questa materia densissima e prima di arrivare alla fotosfera magari dopo aver cambiato dopo aver cambiato anche frequenza che la fotosfera è la parte diciamo superficiale e quindi poi arrivare fino a noi per scaldarci per illuminarci eccetera passano magari centinaia di migliaia di anni quindi la luce che noi riceviamo oggi in questo momento adesso è notte ma insomma che vedremo domani dal sole e vecchia è stata prodotta nella centrale centinaia di migliaia di anni invece i neutrini come abbiamo detto che hanno questa bella caratteristica di attraversare grandi spessori di materiale senza interagire escono immediatamente quindi dopo dieci minuti arrivano sulla terra se sulla terra io ho un apparato abbastanza grande abbastanza sofisticato abbastanza intelligente da poter rivelare intercettare vuol dire dei neutrini solari fagli produrre delle particelle cariche in sostanza che poi io posso tracciare di cui posso misurare l'energia bene io faccio parlare questi neutrini e li faccio parlare di qualcosa che con la luce non posso vedere perché con la luce mi fermo alla superficie del sole mentre con i neutrini è come se io avessi un occhio in grado di andare a guardare proprio nel cuore del sole nel cuore della centrale questo è lo spettro dei neutrini solari che vuol dire lo spettro di energia vedete che le catene di reazione sono tante producono tanti tipi di neutrini non è che è importante guardarli vi voglio solo sottolineare che c'è quelli che si chiamano i pp che sono i più numerosi sono però anche quelli di più bassa energia invece questi altri diciamo sono meno numerosi e hanno un'energia più alta perché diciamo vi faccio vedere questa figura perché i neutrini diciamo il numero aspettato di protoni pp dipende dalla temperatura del sole con delle potenze che sono inferiori rispetto a queste cioè che cosa vuol dire che se cambio leggermente fatemela dire in maniera molto banale leggermente il modello di quello che avviene delle varie catene di reazioni che arrivano che sono intorno al sole questi cambiano moltissimo perché dipendono da potenze della temperatura maggiore rispetto a questi quando andiamo avanti così forse si capisce meglio allora questo è un po' il riassunto della storia della scoperta delle oscillazioni dei neutrini solari è anche molto interessante è anche molto interessante per i fisici secondo me meditare su questa storia perché vedete i primi il primo esperimento quello che ho detto con cui è nato il giallo dei neutrini solari perché il numero dei neutrini che si misuravano non tornava è del 1960 nel 1957 già Bruno Pontecorvo aveva ipotizzato le oscillazioni dei neutrini eppure guardate la cosa si è fermata lì sostanzialmente e mi ricordo che diciamo è stato chiesto al grande Nicola Cabibbo che purtroppo non c'è più in un congresso credo ai lincei come mai l'ipotesi dei neutrini delle oscillazioni dei neutrini stava lì l'esperimento c'era come mai sono passati 30 anni semplicemente per vedere altri dati poi si arriva al 2000 per vincere il premio Nobel sull'oscillazione dei neutrini lui rispose probabilmente è un problema di sociologia politica che voleva dire voleva dire che la fisica delle particelle elementari è nata nel secolo scorso sostanzialmente con i raggi cosmici con le misure dei raggi cosmici dell'atmosfera poi dopo di che sono stati fatti i primi acceleratori e in qualche modo tutti i fisici si sono messi a lavorare sugli acceleratori perché lì la situazione era più controllata i raggi cosmici uno deve misurare quello che arriva non è che può variare ne voglio di più ne voglio di meno voglio questo voglio quello deve prendere quello che arriva invece con l'acceleratore uno può costruire un acceleratore che faccia quello che a me serve e quindi in qualche maniera questo tipo di fisica con quello che ci mandava l'universo aveva perso un po' di di mordente di entusiasmo e poi soprattutto la tecnica che è una tecnica molto sofisticata dal punto di vista chimico in cui Davis aveva potuto misurare questi neutrini non era una tecnica che ai fisici che studiavano agli acceleratori gli piaceva tanto poi ci furono anche ipotesi teoriche in qualche maniera che portarono diciamo un pochino fuori strada fatto sì è che bisogna aspettare quasi gli anni 90 perché in Giappone nella miniera nel laboratorio di Kamiokande c'è di Kamioka c'è questo esperimento ad acqua che si chiama Kamiokande che confermò questo deficit dei neutrini intanto che cosa succedeva in Italia che si stava costruendo il laboratorio del Gran Sasso il laboratorio del Gran Sasso fu all'inizio concepito subito per con l'asse delle sale in direzione di Ginevra perché l'idea era che presto tardi probabilmente sarebbe venuto un fascio dei neutrini dal Gran Sasso quindi l'ipotesi oscillazione dei neutrini il Gran Sasso la prima idea della fine degli anni 70 fu costruito negli anni 80 anche in maniera molto rapida quindi già negli anni 80 l'ipotesi oscillazione dei neutrini era lì e c'erano già le prime prove sperimentali che qualcosa poteva essere successo bene al Gran Sasso si fa un esperimento fondamentale da questo punto di vista questo esperimento Galex poi chiamato GNO perché è fondamentale questo esperimento perché per la prima volta mentre l'esperimento di Davis e quello di Kamioka erano diciamo misuravano i neutrini più in alto diciamo in energia Galex per la prima volta misura questi neutrini PP che sono anche più numerosi che dipendono meno dal modello solare ebbene e dimostra che anche lì c'è un deficit quindi sostanzialmente che cosa voglio dire che alla fine degli anni diciamo negli anni 90 già che la soluzione del giallo fosse l'oscillazione dei neutrini era già abbastanza chiaro poi nel 2000 arriva Supercambio Kanda nel 2000 all'inizio del 2000 c'è questo esperimento Snow in Canada che risulta risolutivo tanto è vero che Art McDonald vince il Nobel proprio nel 2015 e come vi dicevo il puzzle non è finito perché ancora nel mondo si vogliono studiare i neutrini solari perché non abbiamo finito di sapere tutto di imparare tutto su quali sono i meccanismi come funzionano le stelle perché poi il sole funziona come funzionano tutte le altre stelle quindi ancora c'è un esperimento al Gran Sasso in particolare che studia Borexino e qual è l'esperimento Snow con cui Art McDonald che vedete lì ha vinto il premio Nobel e anche questo in un laboratorio sotterraneo alla profondità di due chilometri vedete quanto sono grandi gli esperimenti dei neutrini perché appunto perché se no questi passano e non ci dicono nulla per farli parlare io li devo intercettare devo poterne misurare le caratteristiche quindi è una sfera di quasi 18 metri di diametro piena di deuterio di acqua pesante all'interno di questa di una sfera di materiale acrilico vista da ben 10.000 fotosensori che noi chiamiamo fotomoltiplicatori perché è stato risolutivo l'esperimento di Art McDonald perché era a differenza degli altri esperimenti era in grado di misurare con la stessa efficacia con la stessa diciamo sensibilità tutti e tre i tipi di neutrino allora i neutrini elettrofici saranno anche stati di meno perché durante il viaggio si erano trasformati in neutrino mu però se io li misuro tutto vedo poi alla fine i conti tornano quindi la soluzione è stata proprio definitivamente quella dell'oscillazione dei neutrini bene ho rimesso questa per ricordare che l'altro premio Nobel invece riguarda lo studio delle oscillazioni tra i sapori muonico e tauonico come noi diciamo che si può fare o con i neutrini atmosferici o con gli acceleratori che vuol dire i neutrini atmosferici voi sapete che la terra è costantemente bombardata l'atmosfera arrivano dalla nostra galassia ma anche da fuori della nostra galassia dei raggi cosmici primari sostanzialmente al 99% sono protoni che impattando sull'atmosfera producono degli sciami di altre particelle e la pioggia incessante di raggi cosmici che anche questa ci diciamo ci ci colpisce e che non si vede però basta mettere uno strumento e ce n'è diciamo anche a scopo didattico vari in giro che proprio fanno vedere questa pioggia incessante di particelle che sono i raggi cosmici secondari in mezzo a questi ci sono i neutrini e questi sono i neutrini atmosferici l'altro modo per studiare questo tipo di oscillazione tra il neutrino mu e il neutrino tau è attraverso un fascio artificiale vedete questo è il fascio il CNGS CERN neutrino cranzasso cioè i neutrini erano prodotti dal complesso di acceleratori del CERN indirizzati sotto la crosta terrestre per un percorso di circa 700 chilometri indirizzati verso il Gran Sasso dove poi c'era un esperimento di nome opera che era stato concepito proprio per misurare questi neutrini bene anche qui c'è un po' di storia qui la storia è anche più complicata dal fatto che mentre per i neutrini solari in fondo non c'erano dubbi sperimentali qui si mescolarono anche del fatto che ci sono state delle incertezze anche sperimentali degli errori un po' di analisi in un certo senso all'inizio di questo comunque anche questo è istruttivo diciamo conoscere questa storia di tutto perché uno si era messo a studiare i neutrini atmosferici perché negli anni 80 le teorie di grande unificazione delle forze prevedevano che si potesse diciamo che fosse accessibile da grossi apparati il misurale il decadimento del protone era un evento talmente raro che i neutrini atmosferici avrebbero costituito una specie di disturbo di rumore e quindi era importante misurare il flusso di questi neutrini atmosferici ecco perché negli anni 80 ci fu questo interesse a misurare i neutrini monici atmosferici allora vedete anche qui il macro è stato il primo esperimento che ha cominciato nel Gran Sasso già nell'87 in realtà ha cominciato a prendere i primi dati diciamo che comincia nell'89 e i primi sintomi che il flusso dei neutrini monici atmosferici ancora una volta non tornasse rispetto alle teorie c'era stato negli anni 80 poi alcuni però questi esperimenti usavano delle tecniche diverse quindi non si capiva se era un problema di diverse sezioni d'urto eccetera comunque come ripeto l'ipotesi oscillazione era sul tavolo era sul tavolo per i neutrini solari ma era sul tavolo anche per i neutrini atmosferici intorno al 92 93 quando Rubia era direttore generale del CERN come adesso è Fabio Laggianotti lui riprese l'idea di fare un fascio di neutrini dal CERN di Ginevra verso il Gran Sasso che era stato un po' alla base anche della creazione della costruzione del laboratorio del Gran Sasso però anche qui un po' forviati da alcuni teorici un po' per altri motivi soggiologici in realtà mentre il primo progetto esecutivo già nel 93 era pronto il fascio è stato approvato nel 99 guardate però nel 99 che cosa succede nel 98 anzi la scoperta quella che ha fatto sì che poi Kajita meritasse il Nobel nel 2015 è del 98 e questa scoperta è stata annunciata in un congresso in Giappone che si svolgeva in Giappone in quell'anno in cui appunto arrivò Kajita a dire che l'andamento angolare dei particelle che diciamo si facevano risalire ai neutrini atmosferici aveva un andamento tale che poteva essere spiegato solo con le oscillazioni dei neutrini benissimo in quello stesso congresso vi assicuro che c'era un'altra persona dell'esperimento macro che presentò sostanzialmente gli stessi risultati anzi il parametro delle oscillazioni che aveva dato macro erano diciamo più giuste poi alla luce di quello che si è saputo dopo rispetto a quello di Supercamiocante la domanda è perché il Nobel perché il Nobel è stato dato ai giapponesi e non a quelli dell'esperimento macro e perché si pagano si pagano le incertezze si paga anche il fatto che un pochino l'esperimento macro aveva dei dati meno buoni erano diversi diciamo l'esperimento era di tipo diverso e la qualità dei dati era inferiore però c'era stata anche un'incertezza all'interno della collaborazione io vi racconto queste cose perché diciamo è sociologia della scienza voi perché uno immagina che una scoperta è qualcosa che improvvisamente compare all'improvviso qualche volta capita e ci sono delle scoperte inaspettate però normalmente è un processo faticoso ebbene avevano avuto delle discussioni nella collaborazione che era una collaborazione sostanzialmente tra italiani ed americani e molti dei membri della collaborazione non erano convinti dei dati della spiegazione delle oscillazioni quindi il povero dottor Francesco Ronca che andò allo stesso congresso dove Cagira aveva annunciato la scoperta andò lì forse probabilmente con l'aria un po' più dimessa come devo dire o meno convinta insomma fatto sì è che poi Cagira fece una conferenza stampa in cui annunciarono al mondo sicuramente diciamo Macro ha confermato quindi questo si può dire quindi non voglio dire che il Nobel a Cagira non sia strameritato supermeritato sicuramente voglio dire solamente che diciamo certe volte le incertezze o i ritardi nelle decisioni come per esempio quello di fare il fascio da Ginevra al Gran Sasso è stata una decisione che alla luce del senno di poi poi si è rivelata sbagliata la storia anche qui il puzzle continua e nel 2015 l'esperimento Opera che è quell'esperimento che misurava i neutrini provenienti dal CERN di Ginevra ha dato la prima prova diretta dell'oscillazione che vuol dire la prova diretta che ha misurato i neutrini trasformati cioè il CERN mandava solo neutrini di sapore muonico va bene normalmente tutti gli esperimenti vedono che misurando a distanza i neutrini sono meno di quello che ci si aspetta invece Opera era stata progettata per fare la dimostrazione diretta cioè ha misurato i neutrini Tau quelli che si erano trasformati se volete e come in un delitto avere diciamo il corpo del morto oppure la pistola fumante diciamo è la prova diretta delle oscillazioni e quindi questa è la storia dei Nobel l'esperimento con cui Kajita ha vinto il Nobel è questo super esperimento che si chiama Super Kamiokan anche qui vi prego di guardare dimensioni 39x42 metri 50.000 tonnellate d'acqua 13.000 rivelatori fotosensibili vedete che ci si va dentro col battellino questo per farvi vedere come appunto il neutrino questa caratteristica di passare inosservato fa sì che arrivi sino a noi dagli angoli più lontani e remoti dell'universo però se poi ci attraversa e non ci dice nulla non sappiamo cosa farci per intercettarlo dobbiamo metterci sopra dobbiamo far metterci in mezzo delle grandi quantità di materiale quindi questa era la storia delle oscillazioni dei neutrini ho cercato di spiegarvi anche che cos'è spero di essere riuscita che cosa sono i neutrini però volevo anche darvi un accenno molto rapido a dove altro quali altri tipi di neutrini esistono da dove altro vengono questi neutrini bene abbiamo parlato del sole abbiamo parlato di quelli atmosferici abbiamo parlato dei neutrini più antichi quelli dopo un secondo dopo il Big Bang abbiamo parlato del fascio di neutrini prodotti al CERN di Ginevra adesso non vi sorprendete a vedere lì la banana è una curiosità non studiamo pure i neutrini dalle banane perché non è grandemente importante ma giusto una curiosità nel senso che le banane come sapete contengono potassio tra il potassio c'è il potassio 40 che è un nucleo instabile radioattivo e quindi decade e decade e emette dei neutrini l'altro accenno diciamo giusto per farvi un'idea vedete la terra adesso esistono dei neutrini anzi degli antineutrini che chiamiamo geoneutrini o geoantineutrini che vengono dall'interno della terra cioè dalla crosta e dal mantello perché sono importanti studiarli perché vedete noi della terra effettivamente conosciamo molto poco quello che conosciamo della terra ci arriva dalla propagazione delle onde sismiche però sappiamo che la terra è calda e non è solo calda perché 4 miliardi di anni fa quando si è creato il sistema solare quella era un magma caldissimo per cui continua a raffreddarsi ma in qualche maniera continua a mantenere parte del suo calore non ne produce del calore e come fa a produrre calore la terra lo produce attraverso il decadimento di nuclei radioattivi di uranio torio e potassio che sono sia nella crosta che nel mantello terrestre che decadendo emettono energia e scaldano la terra ancora una volta in questo decadimento vengono emessi dei neutrini ebbene ci sono stati recentemente insomma non parliamo di una storia antichissima ma delle scoperte più recenti ci sono solo due esperimenti al mondo in grado di misurare questi antineutrini che vengono dalla terra uno sta al Gran Sasso ed è sempre Borexino lo stesso che misura i neutrini solari e l'altro è in Giappone adesso se noi riuscissimo a creare una rete di rivelatori capaci di misurare questi antineutrini che vengono dalla terra potremmo imparare di più sul meccanismo di produzione e trasporto del calore all'interno della terra che poi è alla base dei movimenti tettonici e vulcanici quindi ancora una volta i neutrini sono delle sonde come degli occhi nuovi degli strumenti nuovi per andare a vedere lì dove la luce o altri strumenti non riescono a dare informazione poi ci sono questo che cos'è questo è un collasso stellare quando muore una stella come dico l'ultimo sospiro è fatto di neutrini perché sapete che il fenomeno della supernova è il sintomo della morte di una stella quando una stella massiccia ha esaurito il combustibile quindi non è più in grado di produrre energia attraverso questo processo di fusione a un certo punto la gravità non è più bilanciata da questa produzione di energia quindi la stella collassa su se stessa fino a raggiungere la densità e superare la densità nucleare poi rimbalza esplode in un certo senso e butta nello spazio tutti gli elementi sintetizzati all'interno della stella fino al ferro ecco perché possiamo dire che siamo figli delle stelle e in questi negli ultimi dieci secondi di questo circa dieci secondi di questo processo viene emesso anche una grandissima quantità di neutrini e questa non è teoria è realtà perché nel 1987 c'è stata una supernova non nella nostra galassia purtroppo ma ai margini diciamo della grande lube di Magellano la cosiddetta 1987A che ha diciamo in quel tempo c'erano esperimenti non così grandi come abbiamo adesso un po' più piccoli però ci sono stati tre esperimenti nel mondo che hanno misurato i neutrini questo ultimo sospiro fatto di neutrini della stella che muore e poi abbiamo questo vedete lì c'è un buco nero c'è diciamo un evento catastrofico cosmico catastrofico in cui diciamo se io ho materia che viene risucchiata le particelle sono fatemela dire così vengono accelerate le particelle cariche ma queste a loro volta nell'interazione producono anche dei neutrini quindi in questi eventi cosmici catastrofici che tipicamente coinvolgono un buco nero vengono anche emessi dei neutrini bene vedete questo lo dico anche perché quando sentirete parlare delle onde gravitazionali sentirete dire che l'importanza della scoperta delle onde gravitazionali non sta solo nel fatto che le onde gravitazionali sono la prova in qualche maniera più diretta anche se non è che non ce ne fossero altre della vedicità della teoria della relatività generale di Einstein ma l'importanza è che le onde gravitazionali sono ancora una volta un nuovo strumento per studiare l'universo tant'è vero che gli astrofisici non pensavano che esistessero dei sistemi binari fatti di due buchi neri di quelle dimensioni come poi è stato scoperto quindi in qualche maniera sono un nuovo strumento per studiare l'universo e che si aggiunge ai neutrini perché vedete l'uomo fin dall'inizio prima occhio nudo poi col canocchiale poi con strumenti sempre più sofisticati guarda l'universo le stelle le galassie eccetera usando la luce che gli arriva da questi la luce in tutte le sue frequenze quindi non solo visibile x gamma infrarosso insomma tutte le molte delle frequenze diciamo possibili però la luce poi come abbiamo visto interagisce abbastanza quindi viene fermata dalle polveri da questo da quello eccetera oppure nascosta da altre galassie eccetera e invece i neutrini appunto grazie a questa loro caratteristica di percorrere grandi attraversare grandi spessori di materiale senza essere fermati riescono ad arrivare fino a noi e sono stati rivelati questi neutrini da questi eventi cosmici pochissimi anni fa come vedremo al polo sud allora adesso anche con le onde gravitazionali noi abbiamo uno studio a molti messaggeri cioè l'universo ci manda molti messaggeri fino al secolo scorso studiavamo l'universo solo con uno strumento che era la luce adesso siamo in grado di studiarlo con le neutrine se adesso siamo in grado di studiarlo anche con le onde gravitazionali questo apre veramente un vaso di Pandora secondo me veramente in poco tempo impareremo moltissimo sull'universo poi l'ultima cosa come dicevo anche le centrali nucleari questa volta a fissione sono delle sorgenti molto intense di antineutrini e dove si studiano i neutrini? siccome ho bisogno di rivelatori molto grandi e poi non devo essere disturbato dai raggi cosmici da altre fonti di disturbo quindi in realtà i poveri fisici che danno la caccia ai neutrini fanno esperimenti in luoghi spesso estremi e quindi come dico nel libro in qualche maniera seguendo questi cacciatori di neutrin è come se uno facesse il giro del mondo perché effettivamente ne vede dei posti vede il polo sud dove i fisici hanno pensato di strumentare con dei foto rivelatori un chilometro cubo di ghiaccio di ghiaccio purissimo alla profondità di mille metri sotto la superficie calando vedete questa è la foto della parte superficiale questo invece che cosa succede praticamente sono stati calati dei fotomoltiplicatori questi diciamo fotosensori molto sensibili quando un neutrino che viene da questi eventi cosmici interagisce nel ghiaccio produce altre particelle per effetto Cerenkov queste emettono dei lampetti di luce che vengono rivelati da questi fotosensori quindi uno riesce a ricostruire dalla traiettoria energia delle particelle cariche riesce a ricostruire le caratteristiche del neutrino capite che insomma lavorare al polo sud non è proprio il massimo della comodità lo stesso concetto e gli stessi neutrini di altissima energia si studiano nel Mediterraneo in particolare dove si stanno montando due esperimenti uno vicino in Francia e l'altro a capopassero in Sicilia dove c'è un'acqua molto pura molto meno fluorescente eccetera ma il concetto in fondo è lo stesso solo che mentre quello che sta al polo sud vede il cielo nord e viceversa poi ci sono i laboratori sotterrani come abbiamo visto i due premi Nobel lavoravano in due laboratori sotterrani questo per esempio è l'ingresso del laboratorio del Gran Sasso che mi auguro che qualcuno di voi abbia visitato poi come dicevo ci sono le centrali nucleari e di fatti il mio prossimo esperimento faccio un po' di storia personale è questo gigante che si chiama Giuno che vedete questi pallini rossi sono delle centrali nucleari in parte in costruzione in parte che dovranno essere costruite per una potenza complessiva di 30 gigawatt di potenza bene quindi a una distanza media di 50 chilometri da queste sorgenti ci sarà questo gigante che si chiama Giuno che è una sfera di 40 metri di diametro riempito di 20.000 tonnellate di una sostanza che anche questa scintilla emette delle piccole quantità di luce che si chiama scintillatore liquido visto da 15.000 fotomoltiplicatori questo esperimento in costruzione dovrebbe essere pronto per il 2020 è una collaborazione tra Cina Europa e Russia pagato dal costo complessivo di circa compreso lo scavo del laboratorio di circa 300 milioni di euro di cui 99 95 non so quant'è insomma per cento è pagato dai cinesi cioè tutta l'Europa e la Russia sennò porteranno 20 milioni di euro quindi ecco questa è la fotografia della posa della prima pietra ci siamo io e Barbara che sta pure lei qui alla inaugurazione della posa della prima pietra del laboratorio e di questo esperimento quindi siamo arrivati alle conclusioni spero di avervi fatto capire cosa sono i neutrini e qual è l'importanza dello studio di questi neutrini e il fatto che diciamo già a distanza di altri di 12 anni arriva l'anno scorso è arrivato un altro premio Nobel su neutrini le oscillazioni hanno dimostrato che i neutrini hanno massa e questo è importante perché vuol dire che il modello standard che ci sembrava la summa delle nostre conoscenze va già ampliato per tener conto del fatto che quanto non era previsto invece si è verificato cioè che i neutrini hanno massa ma c'è ancora moltissimo da scoprire per esempio ci piacerebbe capire se il neutrino coincide con la sua antiparticella come è stato ipotizzato da Ettore e Maiorano e sicuramente il saperne di più ci aiuterà a capire sia il mondo delle particelle elementari dell'infinitamente piccolo e sia l'universo quindi l'infinitamente grande grazie Grazie Lucia allora vediamo se ci sono delle domande l'argomento potrebbe essere sicuramente Michele ce n'hai uno davanti a te qui una persona che vuole fare una domanda forse non aveva direttamente a che fare con neutrino però parlando prima degli elementi che si formano nelle stelle hai detto arrivano fino al ferro no? avevo sentito dire la formazione del carbonio aveva qualcosa di particolare non mi ricordo bene l'argomento beh diciamo il carbonio è una molecola abbastanza importante per la vita io adesso non sono espertissima diciamo però insomma quando non tutto viene sintetizzato all'interno delle stelle non tutti gli elementi e non tutte le stelle arrivano al ferro però diciamo gli elementi più pesanti dell'idrogeno molti vengono sintetizzati all'interno delle stelle poi con le supernove questi vengono buttati in giro e quindi sono un po' come se uno seminasse nell'universo diciamo in qualche modo poi in particolar modo importante è il carbonio che è importante per la vita quindi diciamo adesso i neutrini delle centrali nucleari perché interessano? perché sono una diciamo io per studiare i neutrini o uso quelli che vengono dall'universo però appunto non è che posso dire ne voglio un po' di più ne voglio un po' di meno quindi l'uomo si è inventato un modo per fare dei fasci artificiali dei neutrini o il fascio quello degli acceleratori che ha certe caratteristiche però anche le centrali sono importanti perché sono una copiosissima sorgente di antineutrini adesso per esempio Giuno che cosa vuole studiare questo nuovo esperimento gigante perché noi abbiamo scoperto attraverso le oscillazioni che i neutrini hanno una massa ancorché piccolissima però non sappiamo in che ordine sono queste masse perché le oscillazioni sono sensibili solo alle differenze quadre delle masse cioè ancora una bilancia in grado di misurare i neutrini la massa dei neutrini in maniera diretta da dire la massa dei neutrini è tot elettronvolt non è stata non ce l'abbiamo ancora quindi quella bilancia che io vi ho fatto vedere all'inizio in realtà non esiste ancora però è importante sapere l'ordine ci sono due ordini possibili ora due delle possibili una delle possibili combinazioni l'abbiamo capita con i neutrini solari l'altra ci manca e questo è importante capire questo perché questo aiuta anche a capire qual è il meccanismo che ha dato massa ai neutrini che ancora non conosciamo e questo è lo scopo principale uno degli scopi principali di questo esperimento poi sarà così grosso sarà in grado di vedere i geoneutrini se ci sarà un collasso stellare e io sono convinta che nella sua vita il collasso stellare arriverà perché ci dicono che nella nostra galassia ce ne dovrebbero essere due tre ogni cento anni adesso sono già parecchi decenni nell'87 c'erano già gli esperimenti in grado di misurare i neutrini provenienti dalle supernove al Gran Sasso c'è un esperimento LVD a cui io ho lavorato quando ero giovane quindi figuratevi quanto tempo è che sta lì ad aspettare questa galassia questa supernova della galassia quindi io sono fiduciosa che Giuno la vedrà questa supernova qualcun altro ha qualche domanda sì da casa non c'è nessuno qui ce n'è una guarda Mauro intanto complimenti volevo chiederle per il fatto che questi neutrini hanno massa lo dico così i neutrini hanno massa diversa questo no è viceversa è proprio perché hanno massa diversa che ci può essere l'oscillazione capito eh sì sono relativistici certo sì sono relativistici ovviamente perché sono molto vicini alla velocità della luce quindi sono relativistici sì leggermente diversa però diciamo quindi e tutti sono relativistici come succede spesso nella scienza siccome diciamo il metodo scientifico consiste nel dire che una verità scientifica è tale quando un altro deve poter fare lo stesso esperimento cioè trovare lo stesso risultato in quel caso addirittura gli stessi che avevano fatto l'esperimento e diciamo comunicato ai colleghi che avevano questa stranezza anche se poi questa cosa è stata diciamo appreso diciamo mediaticamente il sopravvento ma in realtà si voleva solo dire guardateci diciamo noi abbiamo misurato questo insomma hanno capito che c'era un problema proprio di hardware che era la causa del problema quindi diciamo è come cioè la velocità della luce Einstein ha ragione punto no 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 questa era fatta in buona fede poi che sia stata anche mediaticamente forse gestita male quello o meglio sfuggita di mano perché era un argomento talmente grosso perché tutti sanno che la velocità della luce non può essere superata quindi qui su una domanda ho preso delle note premessa i adroni ed elettroni hanno energia diversa in base alla loro velocità sono kinetiche diciamo giusto i fotoni rimangono alla stessa velocità energie diverse ma stessa velocità velocità nella luce certo i neutrini cosa cambia quando lei mi ha esposto che hanno uno spettro amplissimo cosa cambia nei neutrini vari per dare energie diverse il concetto di energia energia come ci ha detto Einstein è l'equivalenza tra massa ed energia diciamo ricomincio da capo allora nei fotoni cambia la frequenza va bene nei diadroni elettroni cambia la kinetica nei neutrini cambia l'energia che cosa vuole che cosa cambia di misurabile nel singolo neutrino uno dall'altro diverso cambia il sapore e cambia l'energia perché mi vuole ricondurre l'energia solo alla velocità no non la voglio ricondurre e allora è l'energia il concetto di energia non lo so non so come c'è nessuna variabile collegata misurata collegata con l'energia appunto come non è forse non capisco la domanda c'è l'energia come fa a stabilire l'energia di un ipotetico neutrino che entra perché quelle le particelle che produce complessivamente in questo senso c'ha ragione hanno una certa massa e un certo impulso diciamo chiamiamolo così all'inglese una certa quantità di moto che complessivamente definiscono la sua energia quindi io misurando la traiettoria misurando quindi come si muovono e diciamo con la quantità di moto se vuole con la velocità con cui si muovono risalgo all'energia del neutrino l'energia del neutrino il neutrino non lo posso misurare direttamente va bene se non interagisce non riesco a misurarlo lo misuro attraverso le traiettorie e me la faccio dire la velocità se vuole dei prodotti della interazione del neutrino ho risposto? no ma rimane un fantasma quello comunque quello comunque c'è un'altra questione piuttosto semplice i fotoni vengono modificati nelle loro traiettorie dalla gravità dico bene? certo i neutrini anche anche si sospetta che diciamo che non è mentre per la luce la deviazione della luce per effetto gravitazionale è stata misurata me la faccio dire così questo effetto per i neutrini non è stato misurato però Einstein finora ha avuto ragione adesso è arrivata pure la prova delle onde gravitazionali quindi anche i neutrini d'altra parte Einstein che cosa ha fatto ha proprio diciamo io parlavo di forza gravitazionale ma in realtà dopo cent'anni da Einstein uno non dovrebbe più neanche parlare di forza gravitazionale perché è arrivata Einstein e ha detto guardate che la forza non esiste la forza gravitazionale lui ha rivoluzionato lo spazio-tempo il concetto di spazio e di tempo noi come ce lo immaginiamo lo spazio ci immaginiamo lo spazio glideo come si dice come delle rette parallele in tre dimensioni altezza e piano va bene pensiamo che siano delle rette che si mantengono parallele con cui noi misuriamo le distanze misuriamo il movimento eccetera e poi è arrivata Einstein e ha detto no mi dispiace queste rette non sono rette ma lo spazio dipende dagli oggetti che ci sono lo spazio è l'oggetto lo spazio è un concetto in sé e la stessa cosa vale per il tempo perché ha rivoluzionato pure il concetto di tempo cioè lui sostanzialmente ha detto il tempo fatemelo dire così è un'illusione perché a seconda che sia in una vicina a una massa più grande o più piccola oppure di come io mi muovo la mia unità di misura cambia il famoso paradosso dei gemelli cioè io ho un gemello io sto sulla terra il mio gemello si muove va verso lo spazio a velocità molto elevata quando torna io sono vecchia e lui è giovane cioè il mio ticchettio la mia unità di misura non è la stessa di lui che si muove velocemente quindi questo ha proprio cioè noi intuitivamente pensiamo lo spazio e il tempo in una maniera sbagliata nonostante siano passati cent'anni da Einstein e solo i poeti o gli scrittori hanno intuito perché posso citare più di uno scrittore che parlando del tempo dà delle definizioni che effettivamente è impressionante quanto siano più simili alla teoria della relatività generale che è un'ennesima dimostrazione che la cultura è una quindi quando certe idee girano nel mondo nel pensiero degli uomini non sono così bolle isolate ma è tutto il tessuto culturale che in qualche maniera pensa in maniera diversa posso intervenire allora un'altra volta lei all'inizio della sua conferenza ha fatto un'esposizione in cui fideisticamente ha parlato di 10 alla meno in 60 secondi e non è contraddittorico con quanto lei sta dicendo proprio perché in quel momento manca il regolo certo voglio dire questo ancora è una molto fittizio vero? beh fittizio diciamo bisogna distinguere tra teoria me la faccio dire così il fatto che l'universo sia nato da quello che noi chiamiamo Big Bang ha le sue prove sperimentali proprio nel fatto che abbiamo misurato la radiazione cosmica di fondo quindi le prove sperimentali che le cose sono andate in questo modo che all'inizio c'era questa singolarità che comprendeva tutto quello che poi è venuto fuori una densità di enorme temperatura e densità che poi in qualche modo l'universo si sia espanso questo è dimostrato poi certo cosa è successo in quei primissimi istanti ovviamente questi diciamo è ancora a livello teorico tanto più che io con gli acceleratori oppure con studiando eventi rari nei laboratori sotterrani posso risalire indietro nel tempo fino a un certo punto non all'età di Planck come si dice quando tutte le forze erano diciamo indistinguibili fra di loro non siamo ancora in grado non abbiamo le prove sperimentali come devo dire non abbiamo neanche la matematica forse ancora non abbiamo la matematica per descrivere che cosa succedeva in quel momento forse possiamo lasciare una discussione privata dopo il resto e per dare spazio anche a qualcun altro d'accordo allora abbiamo una domanda qui però poi non sentono gli altri mi allontano un po' dalla questione che tratterei con molto interesse prima delle ultime da Ginevra e dal Polo Sud io leggendo articoli sulle scienze ho letto che addirittura si formava l'ipotesi dell'esistenza di un multiverso tant'è che subito nella mia ignoranza dico perché un multiverso allora ipotesiamo addirittura più multiversi ci sono molti diversi e la stessa ecco e poi ci sono molti diversi quindi poi quanti beh insomma va bene dopo poi ci sono queste conferme per cui che ci sia una conferma del multiverso no 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 le conferme le conferme le conferme la conferma il bosone è una cosa sì la conferma che il bosone X ha dato conferma con la scoperta del bosone con lo scoperta di questa particella che è stata denominata il bosone di X è diventata famosa come il bosone di X che è la particella che dà consistenza di materia alle particelle elementari elementari e alle particelle di quelle che si chiamano i mediatori delle forze sono quelli che ce l'hanno ovviamente quindi è naturale che quella ipotesi del multiverso è così diciamo c'è un discorso forse lei ha parzialmente ragione nel senso che il fatto che il bosone di X abbia quel valore di massa e non ne abbia un altro apre scenari possibili anche a livello di evoluzione dell'universo se vuole ma non è che proprio sia direttamente legata all'ipotesi del multiverso insomma ci sono parecchi passaggi prima di arrivare e soprattutto ripeto non c'è nessuna prova del multiverso è un'ipotesi perché poi tutti dicono ma anche per rispondere a una domanda a cui noi diciamo non sappiamo rispondere punto e basta che cosa c'era prima della singolarità e com'è che c'era quella singolarità la risposta non lo sappiamo punto probabilmente fra qualche decennio lo sapremo ma adesso non lo sappiamo c'è una domanda da casa Lucia qua su certo allora chiede Antonio il neutrino non ha carica elettrica quindi non ho capito bene la differenza tra neutrino e antineutrino per l'elettrone il suo opposto è il positrone nel neutrino che fa la differenza è lo spin non solo cioè l'antiparticella ha caratteristiche opposte alla particella ma non solo dal punto di vista della carica elettrica di tutte le possibili tipi di cariche che dipendono dalle cariche che sono legate al tipo di interazione al tipo di forza quindi poi in realtà veramente non sappiamo se neutrino ed antineutrino poi coincidono perché questa è l'ipotesi di Majorana ma c'è l'ipotesi di Dirac invece che dice che sono che sono diversi fra l'altro questo del neutrino e antineutrino che coincidono potrebbe essere una spiegazione o contribuire a spiegare perché l'universo perlomeno per quello che noi sappiamo oggi a meno che non scopriamo nel futuro delle galassie fatte tutte di antimateria ma insomma per il momento sappiamo che in stragrande maggioranza l'universo è fatto solo di un tipo che chiamiamo materia e diciamo questa caratteristica della coincidenza tra neutrino ed antineutrino potrebbe in parte spiegare com'è che si è creata nei primissimi istanti questa dissimmetria per cui diciamo è rimasto solo una e non abbiamo più tracce dell'altra però insomma non bisogna pensare solo in termini di carica elettrica la carica elettrica è una carica diciamo in questo senso una carica una caratteristica legata alla forza elettromagnetica però siccome non esistono solo le forze elettromagnetiche quindi esistono mettiamola così anche altri tipi di cariche ci allontaniamo per fare una domanda perché questa sera le casse ci creano dei problemi la domanda è stata in parte fatta però volevo chiedere per capire meglio dato che noi conosciamo adesso che il neutrino ha un'oscillazione quindi cambia di sapore però lei prima ha detto che dalla terra escono dei neutrini che anzi che sono antineutrini volevo capire se invece quelli che riceviamo dallo spazio sono solo neutrini normali tipo E Tau eccetera no diciamo dallo spazio per esempio nei raggi cosmici ci sono anche gli antineutrini non è vero insomma in qualunque interazione diciamo le antiparticelle le antiparticelle non diciamo antiparticelle le antiparticelle sono create nelle interazioni anche agli acceleratori si creano antiparticelle siccome i raggi cosmici sono delle interazioni ad altissime energie che avvengono nell'atmosfera anche lì possiamo avere creazione di antiparticelle quindi antineutrini se ne trovano anche nei nei raggi insomma nell'atmosfera tra i raggi cosmici quindi possiamo ancora una possiamo ancora certo per me va benissimo sempre da casa ce n'è una ce n'è una anche giù va bene io volevo sapere visto che la massa del diverso è in percentuale non sufficiente per per la massa dell'universo per cui si parla di energie oscure e di materie oscure la massa del neutrino cambia questa proporzione oppure dunque io vedete baldanzosamente anche orché con alcune limitazioni dicendo guardate attenzione che il modello standard descrive tutto però per esempio già non ci spiega perché il neutrino ha una massa e vedete è stato dato il premio Nobel il bosone di Higgs poi però come sempre succede più uno impara più sa più conosce più come diceva il saggio sa di non sapere e allora abbiamo sempre negli ultimi decenni insomma non da moltissimo tempo abbiamo scoperto che questo bel castelletto teorico pratico del modello standard delle particelle elementari e delle interazioni si applica solo al 5% del bilancio energetico dell'universo vi ho sconvolto eppure è così allora il 5% è materia descritta dal modello standard diciamo così il 25% è un tipo di materia che chiamiamo oscura non solo perché oscura nel senso che non sappiamo di che cosa si è fatta ma oscura anche perché non emette radiazione elettromagnetica l'altro è il 70% è quella che chiamiamo energia oscura energia oscura non mi chiedete che cos'è l'energia oscura non lo so so solo che l'energia oscura è stata invocata diciamo è stata pensata per spiegare il fatto che abbiamo scoperto osservando galassie sempre più lontane che l'universo in questo momento è in una fase in cui la sua velocità di espansione accelera cioè non solo si sta espandendo ma la velocità con cui si espande aumenta sempre di più ripeto in realtà è sbagliato dire che l'universo si espande non dovete pensare a qualcosa che si espande in un vuoto che esisteva al di là dell'universo non esiste nient'altro che l'universo è lo spazio che si espande come si fa sempre l'esempio di una torta con i canditi che viene messa in forno con lievito e si espande no? se i canditi sono le galassie se lo spazio si espande se la torta si espande le galassie si allontanano bene immaginate che questa torta si diciamo cresce a velocità sempre maggiore quindi da una parte c'è la materia oscura che ha un effetto gravitazionale e ce l'ha questo abbiamo le prove quindi contribuisce a tenere insieme le galassie dall'altra invece c'è questa energia del vuoto se volete questa pressione negativa questa antigravità che spinge le galassie a velocità sempre maggiore sempre più lontane tra di loro purtroppo adesso si comincia un programma sperimentale anche per cercare di capire un po' meglio che cos'è questa energia oscura sulla materia oscura i laboratori sotterranei hanno parecchi esperimenti pure al Gran Sasso che cercano di capire qual è la natura di questa materia oscura ci sono delle ipotesi e l'attacco è triplice perché al Gran Sasso e negli altri laboratori sotterranei si cerca di praticamente di misurare una interazione uno schettering diretto diciamo un urto diretto tra la materia oscura che sta pure qui sta ovunque insomma sta intorno alle galassie al sole a tutto con la materia ordinaria quindi quella sarebbe la rivelazione diretta però c'è un esperimento al Gran Sasso che dice di vedere un esperimento un effetto che potrebbe essere dovuto alla materia oscura però poi altri esperimenti non lo confermano quindi la cosa è controversa insomma poi invece c'è l'attacco produzione di candidati di materia oscura e questo si fa al CERN di Ginevra dove nelle interazioni delle particelle si cercano delle particelle supersimmetriche anche questo in una teoria che supera il modello standard delle particelle elementari appunto si chiama supersimmetria che potrebbero essere dei buoni candidati per fare la materia oscura però finora non sono venuti fuori e poi c'è lo studio indiretto che si fa sulla stazione spaziale che lì si provano a misurare degli eccessi di particelle dovute all'annichilazione della materia oscura intorno oggetti pesanti che potrebbe essere il sole o tutta la galassia insomma eccetera quindi l'attacco è triplice però ancora il puzzle non è stato risolto per il resto signora sono state catalogate oltre due mila particelle scoperte si si però tutte quelle particelle che però hanno vita media breve diciamo però sono sempre riconducibili a quei mattoni fondamentali c'è una domanda un'altra da casa la forza gravitazionale secondo la relatività generale è provocata dalla deformazione spazio-tempo secondo la meccanica quantistica dallo scambio di gravitoni particelle virtuali concepibili solo dal punto di vista quantistico riusciamo a mettere insieme le due teorie? chiedetelo ci vuole una conferenza ci vuole una conferenza quando verrà Rovelli qui ve lo spiegherà adesso parto la battuta ma in realtà la vedete che nel modello standard delle particelle elementari io ho citato sulla destra c'erano i mediatori delle forze ma erano i mediatori di tre delle forze fondamentali la gravità nel modello standard non è descritta perché la matematica che è la meccanica quantistica o le simmetrie di quello che è che descrive il modello standard diciamo e la matematica della relatività generale non siamo riusciti a conciliare non siamo riusciti a descrivere il tutto con un'unica matematica un'unica simmetria eccetera naturalmente ci sono delle ipotesi ho detto la battuta su Rovelli perché Rovelli è proprio uno di quelli che studia sulla quantizzazione della gravità che insomma dovrebbe essere il primo passo insomma il prossimo passo per riuscire a unificare speriamo di riuscirci a breve è difficile quasi quanto invitare Rovelli a tenere una conferenza per i venerdì abbiamo una domanda qui poi vengo da lei un attimo solo se ha un attimo di pazienza sì era nella stessa direzione però un po' fuori moda in questo momento dottoressa buonasera innanzitutto un interesse privato mi prenoto per una reddita sul suo libro quando è finito tutto una domanda un po' così strana un po' fuori dagli schemi dunque nella bibliografia del suo libro lei non cita Frank Lose il neutrino vorrei capire perché se non credo sia ignoranza insomma no nel senso che ignoranza devo dire che soprattutto mi faccia spiegare perché perché è un grandissimo sponsor di Bruno Pontecorvo addirittura sostiene che è meritevole non di uno ma di due premi Nobel per le sue intuizioni che hanno diciamo un po' preceduto i Nobel attuali e poi un'altra cosa sul numero di febbraio delle scienze sotto il titolo lunga vita all'elettrone c'è uno studio di Borexino che lei sicuramente conoscerà che fa una stima della vita dell'elettrone che è di 66 miliardi di miliardi di anni che quindi siamo molto al di là dei 13 miliardi e 700 milioni di anni per fortuna nostra della vita dell'universo della vita dell'universo cioè come siamo messi col Big Bang a sto punto e anche con un altro principio che viene contraddetto cioè con il principio della conservazione dell'energia perché sembra che l'elettrone si trasformi in un neutrino e in un fotone e allora dov'è il principio non conservatrice conserve come grazie sulla bibliografia sarà un mio errore guardi io la bibliografia l'ho fatta veramente confesso veramente con grande malavoglia proprio non c'avevo voglia di fare la bibliografia e si vede e si vede perché è molto frammentaria così molte cose non ci sono altre magari potevano essere elevate quindi quello è veramente diciamo un mio difetto come devo dire un mio no no non c'è un perché no assolutamente non era diciamo non c'è nessun motivo è proprio una dimenticanza o non lo so insomma assolutamente è uno dei più grandi fisici che ci sono quindi assolutamente non sull'elettrone non è vero che non si è in caso diciamo non è che non si si conserverà però insomma beato che c'è l'occhio come si dice per vedere il decadimento dell'elettrone insomma cioè non è che Borexino ha visto il decadimento ha messo il limite insomma le chiedo scusa una cosa velocissima ritornando prima alle galassie visto che una ventina di anni fa si è scoperto che oltre ad espandersi l'universo accelera anche io le volevo fare una cosa che mi lascia così ma la costante di abbole è ancora costante visto che visto che l'universo invece di muoversi con velocità diciamo così costante accelera segue il fatto diciamo che appunto che in questo momento l'espansione dell'universo sta accelerando adesso non so diciamo forse non è una buona risposta però diciamo è la stessa cosa che si che sta accelerando vuol dire che mentre non si spade a velocità costante ma a velocità accelerata cosa cambia in ultrini vari per dare energia direi che possiamo chiudere qui allora ringraziamo ancora Lucia Votano grazie a voi grazie